Ciao Vincè, guarda, abbiamo finito adesso da Gabriele, penso una mezz'oretta stiamo là. Ciao, ciao, a dopo. Buongiorno, buongiorno, ciao Vincè, vi ho venuto a prendere un po' di robetta. Un po' di cosine? Sì. Come al solito, la selezione di formaggi. Bravissimo, allora, un conciato di San Vittore mi serviva, alla grande, stanno andando alla grande, poi tocca valorizzare roba della regione nostra, no? E stanno qua. Eh, e dagli, no? Senti, poi mi serviva un quadrato in tondo di bufala, uno scamosciato, vi finisco, dammi pure il caciofiore, dammi le due. Raccontami un po' di cose. Allora, niente, intanto parti da conciato di San Vittore, visto che è il numero uno. E' il numero uno. Fatto che hai mani due. Con le manine nostre, è praticamente questo formaggio bellissimo, viene speziato con 15 spezie diverse. Massaggiato, no? Cioè, qualcosa di eccezionale. Timo serpillo, anice, rosmarino, menta, pepitella, finocchio, eccetera. E tu come presenti il piatto con questo formaggio? Io questo lo presento, che marmellate facciamo noi, abbinate, altri formaggi, chiaramente romani, pecorino, benissimo. Prima è il caffè e mo' è il cappuccino. Come lo trovate? Pauvoloso. Eccezionale. Si sentono le spezie, fino a chi ha lavorato. Senti, e poi vabbè, è il formaggio più antico di Roma che si faceva di volumella, eh? Questo... Il caciofiore. Se tu pensi che spesso si dice soldo de cacio, perché non pensiamo che il cacio era proprio il soldo con cui venivano pagati gli operai, i militari, i casai? Senti, era, come dire, una percce di spagno, eh? Questa è roba che fa bene, dico io. Fa bene sta roba. Basta mangiare poca... Ma questi lavori nostri, se ne facciamo con passione, li potremmo fare. Esatto. E tante volte, quando porto una matriciana a tavola, che c'è gente, come un amico mio, non faccio nome, ci mette un minuto a mangiarla. Pensi a chi sceglie il guanciale, a chi fia la pasta, al ragazzo che c'è la cucina. C'è gente buca, un attimo le fa spadire. Senti, bussatta tu, Mila. Eh, va bene. Così se vede pure lì, la saluta sempre a chi c'è un male, eh? Sempre, ragazzi. Senti, e l'arte di San Nicola ce l'hai sempre, sì? Fammi un po' vedere. Questo faccio anche le fettuccine, i ragù d'animelle, ma che pappardelle, le fettuccine. E poi pure su una fetta di pane di Gabriello, da pizza. Sì.